Qui al Pink Cheeks abbiamo ideato lo sbiancamento anale perché abbiamo ricevuto molte richieste. Mi sono informata bene, ho trovato un prodotto che si chiama Wonderful Anal Bleach. Così abbiamo cominciato a proporlo. Serve a schiarire il colore della pelle più scura che si trova intorno all'ano, facendola intonare con la normale pelle del sedere. È molto semplice. Prima di tutto faremo la ceretta nella zona anale, leveremo i peli e poi applicheremo direttamente il prodotto sbiancante. Allora questa è la parte in cui urlerò. Rimarrai sorpresa da quanto sia facile indolore. Parola. Tutti quelli che mi conoscono sanno quanto sia fissata con la chirurgia plastica e sanno che non solo il mio corpo, il mio viso, ma tutto deve essere perfetto. E adesso anche il mio sedere sarà perfetto. Molto bene tesoro, adesso mettiti i carponi. Dobbiamo fare la ceretta. Va bene. Ancora un po' più su, 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 bene, bene. Hai una coda qui dietro. Se ti metti in sella andiamo a fare un giro nel parcheggio, tesoro. Adesso leviamo tutti i peli. Non è affatto spiacevole. È una bella sensazione. In più è molto igienico. Uno, due, tre. Molto bene. Sentito niente? No. Uno, due. Brava. Ecco fatto. Ecco fatto. È un prodotto incredibile. È lenitivo e confortevole, no? Sì, è vero. Non fa male per niente, non brucia. No, per niente. Che problema c'è? Se ti fa sentire bene ed è innocuo, fallo. Provalo. Cosa ci può essere di meglio di un bel sedere pulito? Molto bene. Abbiamo finito, bellezza. Oh, è fantastico. Sarò perfetta per il film. Sì, sì. Grazie. Grazie a te. Non sapevo cosa aspettarmi. È stato divertente. Pensavo che forse mi avrebbe bruciato. E quando ha messo la crema è stato veramente piacevole. Pensavo che lo sbiancamento sarebbe stato doloroso, ma non lo è stato affatto. Sono diventata schiava dello sbiancamento anale. No, 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 no.